Vuoti di organico pronti a essere colmati all'aspo di Messina. All'orizzonte l'immissione in servizio di personale medico, infermieristico e amministrativo. Già nel mese di marzo erano entrate in servizio sette dirigenti medici di psichiatria a tempo determinato e cinque di ginecologia a tempo indeterminato. Da lunedì primo aprile prenderà servizio presso la divisione di medicina dell'ospedale di Lipari la dottoressa Maria Damiano, dirigente medico di geriatria, che permetterà anche l'attivazione dei primi quattro posti letto di lungo degenza previsti dalla nuova rete ospedaliera. A Milazzo invece prenderà servizio la dottoressa Cinzia Tortorella, dirigente medico di gastroenterologia proveniente dall'ospedale Papardo. Oltre a permettere la riduzione delle liste d'attesa per l'endoscopia darà un forte impulso alle attività di prevenzione dello screening oncologico di secondo livello per il carcinoma del colon retto. Nei prossimi giorni prenderanno servizio anche altri due nuovi primari nominati dalla direzione strategica dell'azienda provinciale per le discipline di neuropsichiatria infantile e ginecologia coordinamento dei servizi consultoriali. Nelle more dei concorsi per dirigente amministrativo e per collaboratore amministrativo le cui procedure sono già avviate e per i quali a breve saranno nominate le commissioni di esame nella prima metà del mese di aprile saranno emessi in servizio 13 nuovi collaboratori amministrativi a tempo determinato ai fini di consentire lo smaltimento dell'arretrato e la messa a regime di tutte le procedure. Sono infine a buon punto le procedure per definire la gradatoria del personale infermieristico relativo al bando con procedura telematica. Sono 3.303 le domande pervenute. Nei prossimi giorni saranno completate le verifiche per i primi 60 della gradatoria provvisoria con la successiva emissione in servizio.